Se ci si prepara l'apertura degli stabilimenti balneari in montagna si scie ancora. In alto sangro tutto pronto sulle piste per garantire un buon finale di stagione grazie all'innevamento artificiale si riuscite a garantire una coltre bianca perfetta per le ultime discese. Nel fine settimana buona la presenza di appassionati resta l'incognita Pasqua perché la data 9 aprile è ancora troppo lontana per fare delle previsioni ma i gestori del comprensorio se le temperature si alzeranno e la neve inevitabilmente si scioglierà sono già pronti a diversificare l'offerta per accogliere i turisti chi arriveranno. Il finale di stagione sta andando molto bene dicono i gestori la stagione certamente iniziata tardi e quello che è perso ormai non può essere recuperato da quando hanno aperto le piste da sci a metà gennaio si è iniziato a lavorare molto anche un fine settimana con sci e snowboard ai piedi sul comprensorio della maglietta dove il manto nevoso sia pur parecchio insidiato dalle raffiche di vento dei giorni scorsi ha retto abbastanza consentendo il proseguimento di una stagione turistica invernale già iniziata. con notevole ritardo aperti tutti gli impianti di risalita della montagna confortanti sia i dati relativi alle presenze negli alberghi che quelli riguardanti le previsioni meteo per questo weekend intanto dalla regione arriva il via libera per il collegamento con Mamma Rosa investimento da 20 milioni di euro.